Torniamo a parlare della chiusura del punto nascite dell'ospedale Sant'Anna di Castelnuovo-Monti perché il Movimento 5 Stelle chiede alla Regione di ripresentare la richiesta di deroga per quanto riguarda questo punto nascite. Per i pentastellati infatti è stato calcolato male il parametro della distanza, parametro che è stato calcolato da Castelnuovo-Monti, dunque capoluogo montano, a Reggio Emilia e dunque non si è tenuto conto dei comuni dell'autotrinale, come ad esempio Succiso, Ligonchio, Febbi o Civago. Non solo, secondo le pentastellate Silvio Piccinini e Raffaella Senzoni, consigliere regionali Maria Edera Spadoni, onorevole e vicepresidente della Camera, non si è tenuto conto anche della fusione tra l'ospedale Sant'Anna e l'ospedale di Reggio Emilia. Parametri nuovi dunque per i quali appunto le pentastellate chiedono che sia riconsiderata la riapertura del punto nascite di Castelnuovo-Monti.